allora oggi abbiamo una puntata bellissima mi dovete credere sulla parola bellissima perché sono bellissime le nostre protagoniste tutte al femminile sono bellissime le storie e c'è anche qualche bellissima prospettiva perché io ve la presento adesso ma nulla vieta che dal reparto anzi dal pronto soccorso di ostetricia del meraviglioso policlinico gemelli di roma un domani la possiamo trovare sul palco di sanremo o comunque lì a cantare perché ha una voce eccezionalmente bella fosse solo la voce alessia tavian ben arrivata applausi 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 arriva da vittorio veneto ma è romano ormai di adozione 12 anni ormai 12 anni quindi è arrivata qui a un anno veramente è una creatura nel 2009 sì per l'università abbiamo deciso di darci del tu sì per favore grazie per favore grazie allora voi dite dove partiamo dal pronto soccorso di ostetricia questa questa meravigliosa ragazza fa nascere i bambini quindi maneggia la vita e scopriremo che essere ostetrica vuol dire accompagnare la mamma importantissimi in tutto dall'inizio assolutamente sì eppure i papà oggi purelli oggi oggi più di sempre oggi più di sempre oggi più di sempre che carina perché perché vabbè poi ne parleremo col periodo covid sono stati ancora ancora di più un pochettino sì messi da parte non con cattiveria però insomma per esigenze sanitarie alessia una storia meravigliosa allora appassionata di pianoforte di musica anche per questioni proprio di famiglia fin da piccola sì 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 mia madre noi siamo quattro figli e io sono la terza e mia madre fin da piccola da quando i miei fratelli andavano a fare lezioni di musica mi accompagnava insieme ai miei fratelli e mi lasciava durante le lezioni così ad assistere senza fare lezioni vedendo fare sapendo fare però no esatto esatto piano piano gli insegnanti hanno visto che ci prendevo gusto e quindi niente hanno consigliato mia madre di farmi iniziare questo percorso e questo percorso è iniziato voi stavate parlando di bambini no parliamo prima di musica un momento da casa stiate aspettateci e questo percorso della musica è andato avanti sì ho iniziato a sei anni lezione di pianoforte classico e poi mi sono diciamo convertita alla parte moderna quindi ho fatto pianoforte moderno e nel frattempo verso i 13 14 anni che è un po l'età in cui si comincia proprio a fare delle lezioni tecniche di canto e ho iniziato appunto delle lezioni per la voce lezioni di canto e niente non ho non ho più smesso non ha più smesso in tutto questo in tutto questo fa nascere i bambini perché perché far nascere bambini vuol dire laurearsi in ostetricia ecco come come è successo tutto 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 ciò questa il lato il lato b del disco di una volta no prenderi lato a lato b diciamo che un po un po per caso ma mai nulla poi viene per caso no mia madre è pediatra quindi diciamo in generale sono sempre stata in mezzo a bambini a fratelli per non dire cugini per non dire vicini di casa quindi fin da piccole bambini mi sono sempre piaciuti ho fatto un'esperienza diciamo tra la quarta e la quinta liceo io ho una parte della famiglia che negli anni 50 sorelle di mia nonna sono immigrati in belgio e quella parte della famiglia io l'avevo sempre conosciuta praticamente al telefono sì le sorelle di mia nonna venivano in italia ogni tanto però i miei cugini quelli più vicini alla mia età non li avevo mai conosciuti a 16 anni ho chiesto a mia madre se potevo andare da sola in belgio per conoscere questa parte della mia famiglia e una cugina di mia madre lavorava nell'ospedale di namur e siccome sono stata parecchi mesi da loro mi ha detto senti ma nel frattempo visto che sei qui tra virgolette non fare niente perché non viene a fare un po' loro chiamano stage d'osservazione è praticamente uno stage in cui non vieni pagata né niente stai lì solo a guardare fai un'esperienza come le lezioni di pianoforte esatto tu hai fatto lo stage d'osservazione sulla musica e l'equivalente a veder nascere i bambini e lì mi sono innamorata delle ostetriche mi sono follemente innamorata di loro erano delle ragazze deliziose davvero veramente gentili io ancora il francese non lo parlavo benissimo e quando poi ho deciso di fare l'università piuttosto che prendere il conservatorio sono stata sempre molto molto indecisa i miei genitori mi hanno spinto un po' più per il lato diciamo medico comprensibile assolutamente comprensibile ad oggi visto il periodo ma visto anche le soddisfazioni che c'ho al lavoro li ringrazio assolutamente allora si laurea alessia però la musica c'è sempre si laurea e si trova davanti al primo era un bambino una bambina alessandro il primo il primo alessandro ma tu tieni un quaderno in cui no è tutto qua di applauso per favore dalla regia è tutto nel cuore non serve non serve tenerli io non ho memoria cioè spesso non ricordo i nomi delle persone o le facce non ho molta memoria sono una di quelle che si presenta poi si scorda cioè più pensa di più a come si chiama piuttosto che ascoltare chi si presenta però devo dire che le donne me le ricordo spesso anche poi quando ritornano in pronto soccorso me le ricordo forse perché anzi sicuramente perché a parte che mi piace il mio lavoro ma un po più concentrato allora qui non che smettiamo di sorridere sorridiamo e come però stiamo parlando con una serissima professionista allora alessandro viene al mondo ed è il primo parto che tu segui e assisti sì questo fatto di seguire io lo risottolineo perché è importante l'ostetrica se no è un'immagine un po forse oggi sicuramente non più però è un po da film no cioè la persona che arriva quando deve nascere il bambino invece il vostro è un lavoro lungo assolutamente sì e meno anche di più l'ostetrica dovrebbe accompagnare la donna in tutta l'età evolutiva dall'educazione alla sessualità all'adolescenza alla prevenzione dei tumori femminili alla gravidanza se si parla di gravidanze fisiologiche al travaglio il puerperio in menopausa l'ostetrica Dovrebbe avere un lavoro a 360 gradi Ancora più lungo Alessandro viene al mondo e certo non oso non ho mai assistito ad un parto insomma sì stavo al di là dei miei nipoti stavo al di là della della porta e che che succede anche nella professionista che in quel momento si trova davanti Allora a un essere umano per alessandro è stato un un po un trauma per me devo dire la verità ci credo è un po un trauma perché un'ostetrica durante il suo percorso universitario si sente dire in continuo da tutte le altre ostetriche è il primo parto te lo ricorderai il primo parto ti rimarrà nel cuore vedrai ti coinvolgerà per me quel parto è stato devastante io non ho sentito niente niente e sono tornata a casa e ho detto Dio no non fa per me questo lavoro Tutti provano un sacco di emozione tutti sia e poi piano piano e rielaborando ho capito che ero talmente concentrata su quel momento era talmente un momento emotivamente così grande così importante Che che per me è stato un Proprio uno schiaffo uno schiaffo è il primo atterraggio sì Decollo Il decollo cioè non sai che cosa abbia fatto non sapere che cosa fare in quel momento però poi Il secondo il terzo il quarto insomma Ci prendi gusto Eh sì Ci prendi gusto Sono seguiti Vogliamo ancora no è già 08 Dobbiamo interromperci no abbiamo un minuto Spendiamo un minuto e anche qualcosina di più per i papà I papà generalmente fuori dalla sala parto o sono nervosissimi camminano la mano Oppure abbiamo l'immagine del papà che boom e sviene Non lo so pure lì al cinema No aspettiamo una lancia in favore del papà No sono coraggiosi? Ci sono come tutte le persone sono umani anche loro giustamente Quindi ognuno di loro a seconda del loro carattere dà il suo contributo Il papà più bizzarro che ti sia capitato? Un ingegnere E cosa fanno? Gli ingegneri sono i migliori Eh no sono a parte domande in continuo sulle cose tecniche sono proprio Fanno gli ingegneri? Sì 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 assolutamente Questo è questo questo valore come me questo valore Attenzione poi ti controllano il battito del bambino e tipo fanno la cronaca Allora 180? 140? Quindi se stai un attimo però sono divertenti A me emozionano tanto 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 i papà E la moglie non gli dice nulla? Ma lei se l'ha scelto Ma io no io la voglio tutti i giorni Alessia Qui in studio con noi ci fermiamo solo per un attimo Arriviamo con l'ora solare No fiocco rosa fioccazzurro fiocco rosa fioccazzurro oggi Meraviglia ma meraviglia Alessia Attaviano in tutta la sua formidabile simpatia Ostetrica nel pronto soccorso ostetrico del Policlinico Gemelli di Roma E grande voce e eccellente musicista e cantante Tutte queste cose in una persona sola E rimaniamo ancora per un istante al pronto soccorso Abbiamo riso sui papà Abbiamo riso con tutto il rispetto del caso Ci mancherebbe altro Però è il momento in cui i papà li guardi in tutta la loro fragilità Sono dei bambini grandi che sono diventati dei papà Questi sono i papà secondo me Nel pronto soccorso arriva Arriva il pronto soccorso Bisogna essere sempre belli, pronti, preparati Sì, 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 assolutamente Non sai mai chi e quando può arrivare Diciamo che noi in quanto pronto soccorso ostetrico Gestiamo tutte le problematiche delle donne incinta Quindi insomma ci possiamo trovare a tutte le epoche di gravidanza Tutte le patologie e tutti i casi È una cosa un po' fortunata avere un pronto soccorso dedicato Anche per non esporre poi le donne incinta Ad altre patologie come possono essere in altri pronto soccorsi Pronto soccorso generale per esempio Certo, perché se è solo dedicato alle mamme Solo anche un po' più protette È tutto più calcolato Ci vogliamo sopra però una domanda In questo tempo di Covid È assolutamente opportuna, necessaria e doverosa Perché ci sono anche le donne che arrivano con il Covid E con un bimbo da far nascere Perché sono passati nove mesi e deve nascere Allora lì scatta l'operazione forse più complessa Io parlo anche dal punto di vista emotivo Alessia Sicuramente sì Per quanto riguarda la parte organizzativa della struttura Devo dire che noi siamo fortunati L'azienda si è messa di grande impegno Per gestire queste difficoltà Realizzando proprio anche percorsi dedicati Dandoci la possibilità di non avere mai la mancanza Dei dispositivi di protezione individuale per noi Però non è facile No, assolutamente no Però grazie a quelli Già sentirci noi operatori Guardatelo un po', è lei Sembra che giriamo un film dentro Chissà quale laboratorio sotterraneo Invece è lei Diciamo già sentirci più protetti Ci dà la possibilità poi di dedicarci molto di più Alle persone che abbiamo di fronte Per quanto riguarda la difficoltà emotiva Sicuramente la gravidanza in generale È una situazione in cui la donna dovrebbe vivere Insomma serenamente Ma sappiamo che già in situazione di normalità Le donne hanno le loro paure giustamente Certo In più se devono essere diciamo obbligate Per questioni sanitarie a viverle da sole O affrontare il travaglio e il parto da sole È ovvio che la donna che arriva in pronto soccorso Non è una donna serena Non è una donna che ha una facilità Anche ad affidarsi Alla persona che trova di fronte Specialmente se la persona che trova di fronte La vede solo negli occhi Si parla con le parole a queste donne Però si parla anche attraverso lo sguardo Sullo sguardo in tempi di Covid abbiamo tanto da dire ancora Assolutamente sì Una dote fondamentale che deve avere un operatore sanitario in generale Ma io poi parlo per noi ostetriche È proprio la capacità di creare un legame E di infondere fiducia nelle donne La grazia Io la chiamo la grazia Assolutamente sì Sapersi porre Prima di presentarvi un neonato molto importante Anzi la mamma di questo neonato Che ha fatto numero E un'ultima Un'ultima No penultima Perché ancora dobbiamo parlare Ho letto Che quando ti dicono Lei è la persona che ha fatto nascere mio figlio E io l'ho trovata stranissima questa cosa Ti dispiace? Perché? Allora È proprio dire Tu mi hai fatto partorire Ho partorito grazie a te Vuol dire che il mio lavoro è fallito Cioè io non devo sostituirmi Perché io non devo sostituirmi alla donna Il lavoro che deve fare l'ostetrica È riuscire a far sentire la donna Perfettamente in grado Perfettamente capace Di essere lei in prima persona A dare vita al proprio figlio Le donne hanno bisogno Di sentirsi sicure Di sentirsi che ce la fanno Perché in gravidanza E nel puerperio soprattutto dopo La cosa fondamentale è sentirsi inadatte E quindi se la donna pensa Che non è stata adatta Ed ha partorito solo grazie a me Il mio lavoro è fallito Quanto sei bella Alessia Che bella persona Che sei Proprio bella Veramente bella Perché a me verrebbe spontaneo Invece dire o pensare Hai fatto nascere mio figlio È una sorta di dedica Di ringraziamento Forse anche una forma di ringraziamento Sì diciamo che Vabbè poi uno si sofferma sulle parole No 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 Però mi sei stata accanto Nel far nascere mio figlio Mi piace di più Ecco Mamma in attesa Se siete in cura presso Prendete appunti Allora che cosa succede Quando in un paese Arriva il residente numero 29 Succede che Siamo collegati a Varenna In provincia di Lecco C'è una neomamma Che si chiama Sara Invernizzi E che vediamo Sara buongiorno 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 Dennis è nato il 19 luglio del 2020 Esattamente sì Esattamente Affermativo No non è mica un interrogatorio Insomma Intanto auguri Auguri grandi Belli Rotondi Robusti Tutto quello che possiamo mandarle Allora perché È così Oh Un topino Un piccolo cucciolo d'uomo Quanto è bello Anche di nuca Senta Dove è nato Dennis È nato Alecco Sì Ed è il residente numero 29 di Di Morterone Il paesino più piccolo d'Italia Bene Ma lei risponde sempre così Va bene È stupenda Sara Meravigliosa L'ospite Perfetta Allora Morterone È il comune più piccolo d'Italia Da quanto tempo Non arrivava un bambino O una bambina Morterone Erano otto anni Che non arrivava un bambino Per cui È stata una bella cosa Poi soprattutto Visto questo periodo Di coronavirus È stata una rinascita Per il paese E c'è stata una festa Qui c'è Alessia Ostetrica Che ha detto Otto anni È rimasta giustamente così Che festa c'è stata In paese Quando L'avete presentato No? Sì certo Tutti gli abitanti Molto contenti Perché comunque Anche se siamo un pochi Siamo una grande famiglia E poi siccome i miei Hanno questa attività Ristorativa La trattoria dei cacciatori Comunque Sono arrivati lì Abbiamo festeggiato insieme Hanno fatto dei regalini Sono stati molto carini Come Non hanno messo un fiocco rosa Azzurro ogni porta? Sono 28 abitanti? Sono sulla trattoria Sì 28 abitanti? 29 con Dennis Quanti sono? 29 residenti con Dennis E 10 fissi tutto l'anno Ah però Un popolo E mai una meraviglia Attenzione Ovviamente Abbiamo visto il papà Papà Matteo Che adesso è a lavoro Quindi non è collegato con noi Per questo motivo Era presente al momento del parto? Sì sì Era presente Si è emozionato E Al momento del parto era presente Invece prima non poteva Ovviamente entrare Certo Presente ovviamente Con tutte le Mascherina Esatto Le precauzioni Sì 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 Non è svenuto no? No Bello Non è svenuto Addirittura Ha tagliato il cordone umbilicale Quindi Caspita No Quindi insomma Alessia Il papà che taglia Il cordone umbilicale Ma è up level proprio Ah sì Qui siamo Promosso a pieni voti Glielo deve dire Lei Sara Ha vissuto la sua infanzia A Morterone E quindi adesso È un rito Che si ripete Per il suo bimbo Sì certo Adesso Insomma Non abitiamo lì Però siamo residenti Quindi Saliamo spesso Poi Io ho preso Questa passione Il mio luogo preferito Morterone Molto tranquillo Per isolarsi Insomma Nella natura Immersa nel verde E Sicuramente Anche Denis Gli piacerà molto Sara ma quanti anni ha lei 21 21 21 È una giovanissima mamma È Bene Perché siamo abituati Insomma Un tempo A 21 anni Come adesso Si fanno bambini Si facevano bambini E si portava avanti La famiglia E lo so Che è nato solo A luglio scorso Avete intenzione Di proseguire Di sovrappopolare Con la vostra famiglia Morterone Vedremo Per il momento No Dopo Si vedrà Si vedrà Lei è contenta Fa buoni turni di notte Denis Vi fa dormire E ogni tanto Sì Ogni tanto Vi fa dormire Ogni tanto no Aiuto Panico Nel senso che Ogni tanto Si sveglia Come è normale che sia Fa il suo lavoro Però si Fa il suo lavoro È tranquillo La sua ostetrica È stata brava? Sì Molto bravi Mi sono trovata Proprio bene Con tutte Sì sì Molto bene Allora Mi ha tranquillizzato Mi ha confortato È così che bisogna fare Ah sì Assolutamente Confortare Poi col papà Che taglia il cordone ombelicale Wow Suo marito non c'è Ma ha fatto fare una figurona Ma proprio Allora Noi non possiamo che mandarvi baci Tanti a distanza E magari ci mandi ogni tanto Qualche foto di Dennis Che così aggiorniamo L'ora solare Va bene? Va bene Molto bene La saluto Grazie Ciao 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 Che carina tutta Sì No Bene No Ogni tanto si sveglia Ogni tanto no 21 anni Sì Anche voi vedete Mamme di tutte le età Sì Mamme di tutte le età Di tutte le culture È una cosa meravigliosa Meravigliosa Vedere come ogni persona Poi in generale Affronta il dolore E la nascita Anche a seconda dell'età Del vissuto Della cultura È bellissimo È veramente Un'enciclopedia Di emozioni umane Che è spettacolare Che tu porti Tutta nel cuore Sì Sono tutti bagagli Per me Che non possono Che arricchire Ma tu canti mai In sala parto Allora Precisazione Torniamo all'amore Iniziale Voce splendida Bravissima Conosce la musica Sa suonare Sa cantare Diciamo che Ovviamente Concerti in sala parto No Assolutamente no Che io possa utilizzare La musica O che si possa in generale Non solo io Non è una cosa Che faccio io Come particolarità E proprio Ci sono studi scientifici Che dimostrano Che la musica Sì Diciamo che Ci sono due Tra i vari modi Ci sono due modi O come ascolto Proprio Per rilassarsi Sì Oppure come gestione Della parte del dolore E anche nella parte di spinta Nel vocalizzare Quindi non è proprio Un cantare Ma è utilizzare La voce La respirazione Sì Per appunto O spinte O sopportare Le contrazioni Quindi Sì Nel senso che Non è che canto io Posso diciamo Dare dei consigli Alle signore A seconda Della situazione Sì Sì Ma se tu dovessi Cantarmi qualcosa Adesso Piccola piccola Cosa cosa mi canteresti O Santa Pace Santa Pace Allora Principalmente canto in inglese In realtà Ma noi non ci offendiamo Anzi Ci piace la regina Elisabetta Molto Nel mio percorso Ho fatto tantissimo Musica gospel Con un coro di Venezia Diretto dal maestro Andrea Dal Paus Che saluto tantissimo E Una cosina piccola Una cosina piccola Um When Jesus Is my portion A constant friend Is he His eyes Is on the spark And I know Is watching No vabbè signore Io se potessi Mi alzo in piedi Per una situazione del genere Scusate Mi alzo in piedi Ad applaudire Ad applaudire Una ragazza così Ma brava 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 Eh Ho detto brava Sì Mi avete sentito da casa Brava Grazie Lunga vita Immensa fortuna Cara Carissima La nostra Ci mettiamo l'impegno Super professionista Ostetrica Parto pronto soccorso Ostetricia Policlinico Gemelli Ci voleva Ci voleva Ci voleva questo canto Peraltro così bello E così intenso Per presentare Un eroe I bambini sono eroi Le bambine sono eroine Ma a me piace dire eroe Lo voglio dire Anche se mi riferisco Ad una ragazza Bellissima Che si chiama Alba Sanciu Collegata con noi Da Pattada In provincia di Sassari Con la mamma Teresa Solinas E a proposito di bellezza Guardatele tutte e due Voglio dire Veramente È tutto collegato Buongiorno 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 Ah insieme Allora Il mio eroe Ha 13 anni È l'eroe di tutta la famiglia Alba E ha scoperto A dicembre Di aver contratto Il covid Cara Alba Com'è andata? Eh Così così Non ci si può lamentare Diccia Però Così così Ma dura Un periodo duro Difficile Sì Più o meno Chiusa in cameretta? Sì Quando a 13 anni Rimani chiuso Nella tua cameretta Mentre tutta la tua famiglia Eh Si preoccupa per te Ha paura per te Che cosa fai? Era strano all'inizio Comunque Non vederli Io Era una cosa per scontata Poi invece Il fatto di non vederli Da quasi un mese Era stranissimo Perché comunque Potevi parlarsi Sì dalla porta Tramite telefono Ma non era la stessa cosa No Non era la stessa cosa Però mi dicono Mi dicono Alba Che posso darti del tuo Alba A 13 anni Certo Posso farlo Grazie Che tu abbia tirato fuori Tanta grinta Oltre a tanta lettura Vedere i film Che ami di più Leggere tanti libri Insomma A un certo punto Sei diventata tu Quella che tenesse su Il morale alla famiglia Non lo so Eh lo so io Scusa Eh quale notizie volano Mia cara Eh Allora Diciamo che a me Me l'hanno detto Però non lo so Allora Vediamo se la mamma Ne sa di più Signora Teresa Buongiorno Buongiorno E intanto quanti siete In famiglia Adesso cinque Sì Tra qualche mese sei Attenzione Alfa Qualche mese Applausone La signora Teresa Aspetta un bambino Signora non siete capitati In un programma normale Questo si chiama L'ora solare Qua proprio splende Il sole Come nel Come nel meraviglioso E davanti al meraviglioso Mare di Sardegna Allora Tra qualche mese sei C'è stato un momento Signora Teresa In cui a Natale Voi avete avuto Un'idea Bellissima Un'idea molto bella E noi abbiamo Visto qualche fotografia Però me la racconti meglio Eh L'idea è di mio marito È stata di mio marito Perché io Eh Non volevo Lascerla sola Il giorno di Natale Per pranzo Soprattutto E quindi ho detto Troviamo una soluzione Se non la porto giù A mangiare con noi Il mio marito Si è inventato Questa porta In plexiglass Davanti alla porta Di Alba E quindi Abbiamo potuto Mangiare con lei Abbiamo apparecchiato Nel corridoio Guardate questa foto Che bella Alba è giù in fondo È dietro il plexiglass E davanti c'è tutto Il resto della famiglia Esatto Sì Un po' stretti Nel corridoio Ma almeno abbiamo passato La giornata Il Natale assieme Che spettacolo Dice la nostra Alessia Alessia Tavian Signora Tua figlia Ha il covid Tu te lo senti dire Come mamma Tutte le mamme Che ci stanno ascoltando Tua figlia Del venerdì sera Il sabato mattina Si sveglia Che ha la febbre Quindi In questo periodo Pensiamo a quello Non ho mandato Alba a scuola Ho detto Vai in camera Aspettiamo È stata giorni In camera Nel frattempo L'amica Ha fatto il tampone È risultata positiva Alba ha fatto un tampone Dopo 5 giorni Il rapido È risultato negativo Però non ci siamo fidati Perché comunque Era passato poco tempo Anche dal contatto Ha rifatto un altro tampone Il 9 9 giorni dopo Bravi E a quel punto È risultata positiva Da lì è partita La positività Però lei era già Rinchiusa Da 9 giorni In camera E questa è stata Una tutela Anche per tutto Il resto della famiglia Per tutto Sì Per tutti Per noi Per i nonni Zii Perché poi Stiamo tutti vicini Quindi stiamo Quanti siete Di famiglia Tutto insieme Allora Io ho altre 5 sorelle Sì Ecco Questa è giusta Una piccola parte Mio marito È un fratello Però io E mia sorella Viviamo vicina Come la madre Sì E comunque Siamo tutti Nello stesso paese Viviamo tutti Tutti vicini Allora Allora In altri tempi Provate ad immaginare Che tavolate di Natale È ovvio Però Quell'idea Di solito Era così Tornerà a essere così Signora Tornerà ad essere così Assolutamente Perché non esiste Una notte Che duri per sempre Quindi Tornerà presto Ora però Me lo racconta Alba Che sta parlando Molto poco Giustamente Nel senso che dice Cosa volete Ulteriormente da me Ma Alba Che è successo A Natale Ad un certo punto Perché questa notizia Del fratellino O sorellina In arrivo Non si sa Sorellina Sorellina E come è arrivata Come l'avete Insomma Allora Io e mio fratello Lo stavamo sospettando Già da parecchio Solo che Lo diceva mamma Ma naturalmente Diceva di no Quindi Ci pensavamo Questa cosa Che potessi Dircelo a Natale Quindi Hanno portato Questa busta Io e mio fratello Ci siamo guardati Ha aperto La busta E ha tolto Due bavaglini Allora Io e mio fratello L'abbiamo subito Capito Il più piccolo Invece Quando li ha tolto E ha iniziato A ridere Ha detto Un bavaglino E non capiva Cosa voleva dire Quindi È entrato Dall'altro fratello E gliel'ha spiegato Allora È riuscito Urlando E ha iniziato Un fratellino Un fratellino E con te Che stavi dietro Il plexiglass Sì Però Sì Dai dai A muoverti A fare danze No Eh sì Che bello Signora Ma Ha sentito Lo sospettavamo Cioè Sì Gli adulti Che credono Di nascondere Proprio Ci facciamo Delle figure Eh Indagavano Già da un po' Chiedevano A mia sorelle Se Sapessero qualcosa Ovviamente Loro negavano Tutto Perché volevamo Perché volevamo Far la sorpresa L'idea È di appendere L'ecografia Nell'albero di Natale Poi È capitato Sì Ho detto Aurora Aurora A venire nel Lazio E arrivare a Roma Ci venite a trovare In studio Sicuramente Va bene Alba Io ti abbraccio Da lontano Rido Guarda Perdonami Perché sei Meravigliosa Sei proprio Bella Basta Non posso dire altro Auguri Auguri con tutto il cuore Aurora sta bene con Alba Ma fammelo dire Sta anche bene Con l'idea di un giorno nuovo Ne abbiamo bisogno Grazie mille Grazie a voi A lei Grazie di cuore Allora Non sono mancate Evviva Le risate Alessia Tavian Ne sentiremo ancora parlare Grazie di essere stata Grazie a voi Grazie a voi Buona fortuna Buona vita Grazie per tutte le vite Che ci regali Grazie a loro Eh però tu sei Fondamentale Nascono con questo Bell'angelo davanti Eh Grazie Questa è l'ora solare Signori Che meraviglia Fatemelo dire Grazie alla mia redazione Alla mia Al mio tutto Alla mia tv 2000 Ci vediamo tra poco Ritorniamo tra un attimo Torna a trovarci Eh La biblista La nostra biblista Eh Rosanna Virgili Grazie 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 sempre Eh Docente di Esegesi Presso l'Istituto Teologico Marchigiano E proseguiamo Grazie a Rosanna Virgili Il racconto Eh Sugli anziani Eh Nella Bibbia Come sempre Perché senza di lei Non potremmo Nella lettura È la nostra Antonella Civale Io dico sempre nostra Antonella Perché guardate Questo è È gruppo È casa È famiglia Eh Siamo tutti insieme Allora Appuntamento Per Ascoltare Sentire Seguire La vicenda Di Abramo Perché Oggi sì Ma perché Abramo In effetti È raccontato Nella Bibbia Soprattutto Nell'età Anziana Naturalmente Il Genesi Racconta Anche No Dice Che Da giovane Quando ormai Era comunque sposato Lui si muove Dalla sua terra Abramo è un migrante Eccetera Però poi Si ferma molto C'è un tempo Diciamo Narrativo Molto Lungo Sugli anni Della sua vecchiaia Cioè Da 86 anni In poi E questo poi Morirà A 175 Però Quindi è una vecchiaia Molto lunga E piena di sorprese Direi Allora Noi ascoltiamo Antonella Civale Nella lettura Del libro Della Genesi Capitolo 17 I versi vanno Da 15 A 22 Dio aggiunse Ad Abramo Quanto a Sarai All'età di 90 anni Potrà partorire Abramo Disse a Dio Se almeno Ismaele Potesse vivere Davanti a te E Dio disse No Sara Tua moglie Ti partorirà Un figlio E lo chiamerai Isacco Io stabilirò La mia alleanza Con lui Come alleanza Perenne Per essere il Dio Suo e della sua Discendenza Dopo di lui Anche riguardo a Ismaele Io ti ho esaudito Ecco Io lo benedico E lo renderò Fecondo E molto Molto numeroso Dodici principi Egli genererà E di lui farò Una grande nazione Ma stabilirò La mia alleanza Con Isacco Che Sara Ti partorirà A questa data L'anno 21 Dio terminò così Di parlare con lui E lasciò Abramo Levandosi in alto L'imprevedibilità Un uomo anziano E qui siamo al punto Che non aspetta più Niente dalla vita E l'apertura di un orizzonte Completamente nuovo Sperato e insperato Perché questo accade Sperato Quando era più giovane Ma davvero A quel punto Insperato Tanto è vero Che Abramo Risponde a questa Seconda sua Possibile paternità Che Dio gli presenta Proprio Con una No? Un sorriso Proprio Scettico Perché dice Ma è possibile Che a cento anni Un uomo Possa avere un figlio Io posso avere un figlio E certo Questo è Sono gli scherzi Del divino Nella Bibbia Dio fa Anche questo Sorprende Ci sorprende Quando magari noi Contando sulle nostre Possibilità Facendo un po' i conti No? Degli anni Della stanchezza Della debolezza Che comunque Insomma La vecchiaia porta con sé Allora pensiamo Ma insomma Vabbè Bisogna che io Mi accontenti Invece Ecco La Bibbia Ci sorprende Sempre Perché non c'è mai Un termine Per le cose belle Che possono accadere E per qualcosa in più Che può venire veramente Da questo Dio Che porta l'umano A sconfinare A sconfinare Nel bello E non Come dire A rialzo Ed è bellissimo questo Perché Noi pensiamo La vecchiaia Appunto Come un tempo Dove non ci sono più Opportunità E invece Invece La parola di Dio È È giovane Ci mostra Un Dio giovane Pieno di Di Così Quasi Come si può dire Di brio Di vita E Mi sembra bellissima La storia di Abramo Due punti Osanna Quella benedizione Che Si riversa In vecchiaia Su chi In sostanza È stato Sempre fedele No Su chi Su chi Si è ben comportato E poi Quella fecondità Volendo Applicarla Metaforicamente Parlando A oggi O comunque A un tempo Decisamente successivo Indica Una rinascita Costante Che può avvenire Anche in un tempo Di vecchiaia Assolutamente Una rinascita Un Riprendere i fili Del sogno Un riscatto Della sensazione Di Ormai ho perduto Le occasioni Quando siamo Appunto Sono dei momenti Delle tappe Nella vita In cui diciamo Vabbè ormai Alcune cose Non potrò farle più O non mi potranno Accadere più E invece C'è questa sfida Davvero Della Trascendenza Dio è Trascendenza Che Proprio Come dire Talvolta In maniera Anche Ben superiore A quanto Abbiamo sperato Anche da giovani Ci viene dato In vecchiaia Magari Quando Che bella Che bella Questa lettura Che belle Queste parole Perché Dedicate Ovviamente Alla vecchiaia Dedicate Forse A un pensiero Qualcosa Che dobbiamo Imparare Ad allenare Anche prima Della vecchiaia Farci trovare Preparati Continuiamo Con Antonella Civale Nella lettura Del libro Della Genesi Siamo al capitolo Successivo Il capitolo 18 I versi Vanno da 9 Al 15 Poi gli dissero Dov'è Sara Tua moglie Rispose È là Nella tenda Riprese Tornerò da te Fra un anno A questa data E allora Sara Tua moglie Avrà un figlio Intanto Sara Stava ad ascoltare All'ingresso Della tenda Dietro di lui Abramo e Sara Erano vecchi Avanti Negli anni Era cessato A Sara Ciò che avviene Regolarmente Alle donne Allora Sara Rise Dentro di sé Disse Avvizzita Come sono Dovrei provare Il piacere Mentre il mio Signore È vecchio Ma il Signore Disse ad Abramo Perché Sara Riso Dicendo Potrò davvero Partorire Mentre sono vecchia È forse Qualche cosa Di impossibile Per il Signore Al tempo fissato Tornerò da te Tra un anno E Sara Avrà un figlio Allora Sara Negò No, non ho riso Perché aveva paura Ma egli disse Sì Hai proprio riso Questa pagina È stupenda Perché è così umana Addirittura Ha la paura Di essere scoperti Nell'aver riso Ma intendendo Quella Quella giovinezza Feconda Che lei Giustamente Non sente più Non sente più Mentre un uomo Anziano Può generare figli Una donna Anziana Non li può Non li può fare Sì Qui vediamo davvero La cura E l'attenzione Anche la delicatezza Della Bibbia Che guarda La vecchiaia di un uomo In un modo E quella di una donna In un altro Noi forse no Che pure siamo Molto attenti A queste cose Però non raggiungiamo Quella delicatezza C'è questo sguardo Così preciso Su di lei E anche così Come dire C'è la consapevolezza Che per una donna Sia più difficile Credere Per esempio Di avere un figlio Quando appunto Non si può più Perché ci sono Dei confini precisi Diciamo Per la donna Per il femminile E quindi C'è una Come dire Un'attenzione Ancora maggiore Perché Chi scrive Sa che è più difficile Credere Per una donna Ad una Primavera Diciamo Nell'età anziana Ad una Ad una Sbocciare Del piacere Addirittura Lì si parla Addirittura Quindi È veramente Che dire Sì Un prodigio Perché L'angelo di Dio Dio insomma Insiste proprio Con Sara Come dire Ma devi crederci Invece E dice Tu hai riso Come dire Sei stata scettica Sì E poi il testo ripete No no Tu proprio hai riso Lei dice Ma no Non ho riso Ti sto credendo È uno scambio Meraviglioso Meraviglioso Ecco Io fondo Su questi testi L'idea Che anche molte donne Abbiano scritto I testi biblici Perché 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 Non credo Che un uomo Possa capire Davvero Cosa significhi Per una donna Un messaggio Del genere Quando Le donne Le donne Sono anche concrete Molto concrete Rosanna Virgili Ci stupisce sempre Grazie Anche in queste Letture Ipotesi No? Sì La parola È meravigliosa Allora continuiamo Sì Ce la facciamo Anche con il nostro tempo Sempre grazie Ad Antonella Civale Libro della Genesi Capitolo 25 Siamo andati Ancor più avanti I versi vanno Dall'1 All'8 Abramo prese Un'altra moglie Che aveva nome Keturah Ella gli partorì Zimran Ioxan Medan Madian Isbak Esuach Ioxan generò Saba e Dedan E i figli di Dedan Furono gli Assurim I Letusim E i Leummim I figli di Madian Furono Efa Efer Enoch Abidah Ed Eldah Tutti questi Sono i figli Di Keturah Abramo diede Tutti i suoi beni A Isacco Invece Ai figli Delle concubine Che aveva avuto Abramo fece doni E mentre era ancora In vita Li licenziò Mandandoli lontano Da Isacco Suo figlio Verso il Levante Nella regione orientale L'intera durata Della vita di Abramo Fu di 175 anni Poi Abramo Ospirò E morì Infelice Canizie Vecchio E sazio Di giorni E si riunì Ai suoi antenati Grazie Antonella Civale Grazie come sempre Vecchio E sazio Di giorni E Favorendo A tutti gli effetti Un figlio Rispetto agli altri Ecco in questo testo Che è sublime Per la descrizione Del morire Non lo chiamerei La morte Penso che nella Bibbia In fondo Non si parli mai Di morte Se non Ma il giusto muore È un morire Quindi è un atto Morì in felice Canizie Pieno Di pienezza C'è la felicità Basta È troppo È perfetta La felicità Quasi che non entrasse più Nel corpo E quindi è molto bella Quest'idea del morire È piena di luce È piena di speranza Eccetera Però ecco C'è un elemento Qui che si introduce Che è Una tentazione Che può avvenire Ai genitori anziani Lui ormai aveva otto figli Perché sei da chietura E due Però lui è molto legato A Isacco Un po' Perché naturalmente Ci sono ragioni Teologiche Che sono scritte Per cui lui d'accordo Viene Dio stesso Che è il figlio Della promessa D'accordo Però ecco Volendo così Ricavare un insegnamento Per noi genitori Quando siamo anziani C'è la tentazione Di attaccarsi Al figlio Che Che ti sta vicino O che ti promette Che magari Ti assiste Nella vecchiaia Ecco Dobbiamo parlare Anche di cose Terra a terra Perché è fatta di questo No Tu riesci sempre A spostare tutto Alla vita di oggi E questa è anche La tua forza Io credo che ci sia tanta sapienza Proprio nella Bibbia Tanta Come dire Scuola di fede Ma anche tanta sapienza Umana Per la nostra E quindi Questo Non è bello Perché poi vedremo Purtroppo Che i figli di Abramo Non saranno in pace Tra loro Anche perché Abramo comunque Ha preferito uno A tutti gli altri Ha fatto dei regali Ma a lui Ha lasciato l'eredità E purtroppo Il rapporto con i figli Ricordo appunto Una persona molto in gamma Ma non voglio adesso Che diceva Il rapporto dei padri Con i genitori E con i figli Dei padri Soprattutto Maschile quindi Poi quando i figli Sono grandi Molto si gioca Su Su Il denaro Sui soldi Sulle cose E quindi Abramo Non ha fatto Parti uguali Rosanna Virgili Invece ci regala Sempre in parti uguali Bellezza Fede Comprensione E conoscenza Quindi noi La aspettiamo Presto Allora Solare Grazie Rosanna Virgili Docente di Esegesi Presso l'Istituto Teologico Marchigiano E come amo dire Fortunato Chi ce l'ha Come professoressa E grazie di essere Stata con noi Da lunedì al venerdì L'ora solare Lo sapete Alle ore 14 Noi vi aspettiamo Grazie Grazie